Introduzione alla mostra intitolata il terzo occhio. Questa mostra è stata realizzata con immagini prodotte dall'intelligenza artificiale. Il terzo occhio è un concetto presente in molte culture e religioni, ma anche in campo scientifico e metafisico. In generale si riferisce alla capacità di percepire il mondo in modo diverso e più profondo rispetto ai nostri due occhi fisici. Il concetto di terzo occhio può assumere differenti significati a seconda della tradizione o della disciplina in cui viene considerato, ma in generale si riferisce ad una capacità di percezione sicuramente più estesa. In questa mostra le immagini generate dall'intelligenza artificiale tramite input umani e soggettivi prodotti da un mix tra prompt e immagini guida, scelte secondo gusti, tendenze e aspirazioni presenti nella cultura personale che ricreano opere sorprendenti e innovative di deep learning. Viene in mente in questo senso il collegamento tra la funzione trascendentale della psiche, descritta da Jung, e la capacità di percezione spirituale e intuitiva al di là della vista normale e reale delle cose. Forse è ipotizzabile che l'intelligenza artificiale possa aiutare ad aprire un terzo occhio virtuale, ovvero una capacità di percezione più profonda e dettagliata della realtà, attraverso la produzione di immagini ad alta risoluzione, simulazioni e modelli. L'intelligenza artificiale si basa su algoritmi matematici e sollecitata con richieste, i prompt, che possono essere immagini testuali e immagini visive, testi, può offrire un'ulteriore prospettiva sulla realtà, anche se non può sostituire completamente la capacità di percezione e di interpretazione dell'essere umano. In sintesi, l'intelligenza artificiale può produrre nuove prospettive creatività e elaborazione artistica, ma è importante considerare la sua integrazione con il processo creativo umano come una collaborazione e un'opportunità di arricchimento reciproco per generare nuove forme d'arte che non erano mai state prodotte o concepite prima. Tuttavia, non è sufficiente fornire un prompt banale all'intelligenza artificiale e aspettarsi che l'intelligenza artificiale produca automaticamente un'opera d'arte innovativa e profonda. L'AI ha bisogno di essere allenata e programmata per comprendere i concetti e le idee che si desiderano esprimere e questo richiede un lavoro di ricerca delle domande prompts e della loro articolata, meditata formulazione. Sicuramente l'arte umana e maieutica delle domande è lo strumento indispensabile per produrre le opere capaci di esprimere una visione spettacolare interiore di significati. Il terzo occhio, quindi, è ciò che rende possibile i prodotti d'arte che ricreano contesti ed idee nella visione di un artefatto mischiando algoritmi, domande e settando parametri delle applicazioni AI. Nella fase sperimentale è possibile provare varie applicazioni AI a disposizione in una vasta gamma di offerte che in genere si basano sulla produzione di text-to-image, image-to-image, image-to-text, text-to-text. Le varie chatbot sono anche in grado di generare romanzi riassunti scritti. Per quanto riguarda le applicazioni di AI, non funzionano tutte allo stesso modo e sono state imparate, ossia allenate in modo diverso. Qui sono, in questa mostra, sono state utilizzate diverse applicazioni che verranno anche commentate adesso da me. Questa è la mostra da percorrere. Alcuni esempi L'AI di Meet the Journey utilizza ad esempio una tecnologia di riconoscimento delle immagini che le permette di comprendere i tratti distintivi dell'immagine guida che le viene fornita. Questa tecnologia consente all'AI di generare opere d'arte che rispecchiano lo stile e il contenuto dell'immagine guida fornita dall'artista. In particolare, Meet the Journey utilizza algoritmi di Deep Learning per analizzare le immagini guida fornite dall'artista e generare immagini nuove. Ad esempio, se l'immagine guida fornita dall'artista è un dipinto impressionista di Monet, l'AI cercherà di emulare lo stile e la tecnica di Monet nell'immagine generata. Tuttavia, è importante notare che l'AI di Meet the Journey non si limita a copiare l'immagine dell'artista ma cercherà di creare un'opera d'arte unica e veramente sensazionale che esprima la creatività dell'artista stesso. In questo senso, l'immagine guida funge da punto di partenza dell'AI ma non vincola la sua creatività e la sua capacità di produrre opere d'arte originali. Night Cafe è un'AI di generazione di immagini che utilizza una tecnica basata sulle reti neurali artificiali per creare opere d'arte originali. A differenza di Meet the Journey, Night Cafe non richiede all'artista di fornire obbligatoriamente un'immagine guida per la creazione dell'opera d'arte. Tuttavia, Night Cafe utilizza una tecnologia di apprendimento automatico che le permette di apprendere dalle immagini che gli vengono presentate e di generare immagini che rispecchiano lo stile e il contenuto di queste immagini. In questo senso, si potrebbe dire che Night Cafe utilizza implicitamente le immagini guida fornite dagli artisti o dai suoi utenti per apprendere e migliorare continuamente la sua capacità di generare le immagini di qualità. Ad esempio, se l'artista vuol creare un'immagine a sfondo filosofico che rappresenti l'idea di tempo, potrebbe fornire a Night Cafe alcune immagini di orologi, di stelle in movimento o di altre immagini che rappresentino il concetto di tempo. Night Cafe utilizzerà queste immagini come input per apprendere e migliorare quindi la sua capacità generativa ma non copierà semplicemente queste immagini bensì le cercherà di crearne di originali e uniche. Stable Diffusion UI è un'altra AI di generazione di immagini basata sulle reti neurali artificiali. Anche in questo caso, l'AI non richiede all'artista di fornire un'immagine guida per la creazione di un'opera d'arte ma si basa soprattutto sulle informazioni testuali fornite dall'artista. Tuttavia, a differenza di Night Cafe, Stable Diffusion UI utilizza un approccio basato sul condizionamento delle immagini generata dalle informazioni fornite dall'artista. In pratica, l'artista può inserire un testo o una descrizione dell'opera d'arte che desidera creare e Stable Diffusion UI utilizzerà queste informazioni per generare un'immagine che rispecchia lo stile e il contenuto desiderati. Ad esempio, se l'artista inserisce una descrizione del tipo un'immagine che rappresenta la filosofia dell'essere umano come parte integrante della natura, Stable Diffusion UI utilizzerà queste informazioni come input per generare un'immagine che rispecchia questo concetto l'immagine generata, infatti potrebbe essere un paesaggio naturale con un essere umano integrato nella scena. Open AI è un'altra applicazione e per quanto riguarda la generazione di immagini ha sviluppato diverse tecnologie basate sulle reti neurali tra cui dalla AI un modello di generazione di immagini che utilizza un'architettura di tipo transformer per generare immagini a partire da un contenuto di testo. Open AI ha anche sviluppato CLIP un modello di apprendimento automatico che consente di allenare una rete orale a riconoscere gli oggetti presenti in un'immagine. In questo modo, quindi, l'utente può utilizzare CLIP per trovare immagini correlate a un determinato concetto e per generare immagini a partire da input testuali. In generale, si potrebbe dire che Open AI utilizza un approccio basato sulla generazione di immagini a partire da input testuali lo ripeto, piuttosto che dall'utilizzo di immagini guida specifiche tuttavia l'AI potrebbe essere in grado di utilizzare le immagini come input o riferimento per registrare le immagini a seconda del modello specifico utilizzato. Adesso volevo anche dirvi qualcosa di Image Space La piattaforma, questa piattaforma utilizza tecniche di Deep Learning per generare immagini e video a partire da una vasta gamma di input come testo, immagini e suoni in particolare Image Space utilizza una tecnica di Deep Learning chiamata Generative Adversial Network per generare, per creare immagini casuali e poi per valutare queste immagini e cercare di distinguere tra quelle immagini che ha a sua disposizione in modo da ingannare la rete discriminatrice Image Space ha anche sviluppato un sistema di elaborazione del linguaggio naturale NLP che consente di generare immagini e video a partire da prompt testuali Ad esempio, è possibile inserire un prompt come un'immagine di un paesaggio sereno con un fiume che scorre la piattaforma utilizzerà NLP per generare un'immagine corrispondente a questa descrizione In generale, Image Space sembra avere un'ampia gamma di funzionalità basata sull'AI per la generazione di immagini e video personalizzati Hotpot AI un'altra piattaforma di intelligenza artificiale per generare contenuti utilizza l'AI per creare testi, immagini e video In particolare, Hotpot AI offre una gamma di strumenti di generazione di contenuti basati su AI tra cui la generazione di testo e la creazione di immagini Per esempio, se si desidera generare del testo è possibile utilizzare la funzionalità di generazione di testo di Hotpot AI basta inserire un argomento e una parola chiave e la piattaforma utilizzerà l'AI per generare automaticamente un testo coerente ben scritto sull'argomento selezionato Inoltre, Hotpot AI offre anche la creazione di immagini utilizzando l'AI per generare automaticamente immagini basate sul testo per creare disegni a mano libera a partire da immagini esistenti In generale, Hotpot AI sembra utilizzare l'AI in modo innovativo per generare contenuti in modo rapido ed efficiente Tuttavia, la qualità dei contenuti prodotti dipende anche dalle informazioni di input fornite dall'utente e dalla percezione degli algoritmi di elaborazione utilizzati Adesso, due parole su Playground AI è una piattaforma di intelligenza artificiale che fornisce strumenti per generare e personalizzare modelli di machine learning non è specificatamente un software per la creazione di arte o immagini ma può essere utilizzato per generare modelli di intelligenza artificiale che possono essere poi impiegati per vari scopi tra cui la generazione di arte In generale, quindi, Playground AI offre un'interfaccia utente intuitiva che consente agli utenti di creare e personalizzare modelli di machine learning utilizzando il linguaggio di programmazione Python Gli utenti possono scegliere tra diversi tipi di modelli come reti neurali, alberi decisionali, algoritmi di clustering e possono personalizzare i parametri del modello per adattarlo alle loro esigenze In generale, Playground AI non è specificatamente un modello quindi specifico per le immagini come dicevo prima ma può essere utilizzato per mettere a disposizione modelli di intelligenza artificiale pur prevedendo una certa conoscenza che l'utente abbia una certa conoscenza dei linguaggi di programmazione e di machine learning quindi non è questa un'applicazione adatta a tutti gli utenti Questa è parte della mostra Ci sono molte le applicazioni presenti e sono prodotte con diversi strumenti messi a disposizione dalla rete quindi basta percorrerla e vedere il risultato delle immagini sul sito sono anche presenti delle bolle che riportano a dei link ad esempio una presentazione delle varie applicazioni mostro let's go ecco questa è la presentazione con tutte le applicazioni che sono state impiegate in questa mostra chiudo questa in questa bolla c'è un walklet con la presentazione delle principali sempre applicazioni che possono essere utilizzate le più note queste sono altre immagini che possono essere visualizzate all'interno del percorso accanto a ciascuna delle immagini che vengono presentate ho messo una nota in giallo questo cartoncino in giallo con la descrizione dell'applicazione utilizzata e del prompt che ha generato l'immagine quindi la 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 Grazie.